E' stato ritrovato il corpo di Levin Weitorchett, un escursionista tedesco di 25 anni scomparso da diversi giorni durante un'escursione in solitaria sul Gran Sasso. Il giovane stava percorrendo la via del Centenario, un sentiero che collega Vado di Corno a Fonte Vetica, quando è scivolato in una forra sul lato nord del Monte Prena. Il corpo è stato individuato venerdì mattina da una squadra di tecnici del soccorso alpino e speleologico specializzati in forre lungo la forra di Fossa Ceca. Le operazioni di recupero sono andate avanti per tutto il pomeriggio. La zona infatti è stata interessata da forti piogge nei giorni scorsi, rendendo l'area particolarmente insidiosa. Le autorità locali e i soccorritori si sono mobilitati prontamente per cercare di portare a termine il recupero in sicurezza, nonostante le difficoltà logistiche e il maltempo in arrivo. La scomparsa del giovane ha suscitato grande preoccupazione e il ritrovamento del suo corpo mette tristemente fini a giorni di angoscia per i suoi familiari e amici, gettandoli però nel dolore e nella disperazione.